benvenuti signori allora oggi invece questo video andiamo a vedere uno dei casi di successo dei quali vado più fiero pietro fiore pietro fiore che arriva già ad altri percorsi per certi aspetti anche abbandonato nonostante avesse acquistato pacchetti importanti di coaching abbandonato letteralmente a suo destino si è affidato a sottoscritto ok si è affidato a sottoscritto a partire da settembre 2023 questa dashboard di agosto 2024 ma lui aveva già cominciato a guadagnare molto bene già ottobre novembre dicembre scorso periodo di alta stagione 2023 di fine 2023 ok però ho il piacere anche in questo caso di andarvi a mostrare una dashboard estiva ok perché li vedrete tutti là fuori che vi faranno vedere le dashboard di dicembre gennaio di novembre che è alta stagione molto più facile guadagnare queste cifre per chi non sa l'inglese traduciamo questi dati e vi leggiamo anche il post postato primo agosto alle 1 e 27 quindi 13 e 27 quindi lui ha con questi libri che ha pubblicato se leggiamo ciao questo mese più o meno in linea con il precedente anche se qualche centinaio di euro in meno sono numeri che comunque ci soddisfano e che non abbiamo mai visto finora parlo al plurale perché dietro a questo risultato siamo io e mio fratello sono due fratelli che lavorano ok 3131 pagine lette con la con il camp che sono le pagine lette per quelli che hanno il kindle unlimited ok ebooks free non ce ne sono gli hanno comprato 46 ebooks libri elettronici gli hanno comprato nel corso di mese di luglio 2024 873 copie di libero cartaceo paperback 4 in distribution che sono i canali esterni ad amazon quindi poca roba ordini dalle ad 530 royalty lord 5782 quindi questo è quello che lui porta a casa ha speso di ad 2135 netto 3646 ok quindi perfettamente in linea questo è un caso tipico di uno dei nostri studenti che ottiene il risultato quindi pattuito nei nostri percorsi quindi noi portiamo le persone a guadagnare 1000 2000 3000 a seconda dei risultati ai quali puntate lui ha raggiunto il suo obiettivo ok poi vedrete i mesi successivi perché lui sta continuando il giorno nei momenti in cui sto registrando questo video so già lui che cosa ha fatto il mese di agosto quindi non vi preoccupate ok sta andando bene ancora quindi non ha fatto un mese e poi è crollato anche perché vi ha appena scritto che il mese prima di luglio aveva fatto anche un pochino di più siamo ad agosto è normale per la tipologia di libri che lui sta pubblicando che ci sia una flessione è agosto ragazzi ok è agosto il mese forse più basso in assoluto settembre ottobre o dicembre si andrà a risalire quindi questo è pietrofiore questa schermata che vedete è uno screen che lui ha fatto dalla sua applicazione kdp che adesso cambiato nome si chiama kdp publisher quindi un'applicazione che estrapola i dati dai suoi account di amazon qui non sono dati che lui può cioè modificare un mxl questo qui ok è un programma che prende i dati dall'advertising di amazon e prende i dati dal suo account amazon quindi li mette in questa tabella lui vede il recap è molto più comodo per chi fa questo lavoro usare questo programma perché così vede tutto in una schermata i dati più importanti del suo business quindi questo è il suo risultato roy 171 per cento non male congratulazioni pietro che penso vedrete presto sui nostri canali quindi grande pietro 3.600 metti 5.700 lordi buttali via